A Milano fino al 30 giugno, Foto Festival, 177 mostre in giro per la città. Paola Nicchiareco. Torna a Foto Festival con il suo ampio circuito di oltre 120 spazi espositivi, gallerie e musei che fino al 30 giugno ospitano 177 mostre, molte delle quali a ingresso gratuito. Tra le sedi più prestigiose, Palazzo Castiglioni in Corso Venezia. Nelle sue sale tre piccole esposizioni, a cominciare dagli scatti in bianco e nero di Augusto Cantamessa. È poco conosciuto al grande pubblico, un autore recentemente scomparso, 90enne, che faceva fotografie di tipo classico, in un bianco e nero molto accurato, molto attento, un tipo di fotografia da reportage. La fotografa Catilina Sherman ha scelto come soggetti le mani artigiane, dando vita ad un racconto visivo ricco di intensità. Fabiano Ventura, invece, ha dedicato i suoi scatti spettacolari alle grandi catene montuose della Terra e ai loro cambiamenti climatici, dalle Ande all'Himalaya. Giunto alla 14esima edizione, il festival non si rivolge solo agli addetti ai lavori. Abbiamo una vera e propria missione, quella di portare la fotografia al pubblico, non il contrario. Cioè di aprirsi a un pubblico anche che non è soltanto quello dei tanti appassionati, ma anche quello di chi per la prima volta va a visitare una mostra.